Il riveso è molto autoritario. Il riveso il riveso. Il riveso è molto autorizzato. 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 iscriviti al centro cuore. sono spavendo le pietre sul metro, si vorrei customers two passaggiare. A uscite riscrestri. sì, ma affog但. oppure Kingdom, Mi dici che ti danno? Che ti danno? Una mangiare normale? Sì, perché quello è il problema dei dati. Chi è nessuno? L'hanno buttata fuori? Che ti danno? 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 Arbitro! Che ti danno? Ma come lo fai? Il potere ci deve stare. Un giocatore nostro è morto. Quando parte la palla? Quando parte la palla. Ma non è palla. È un suo attimo. Questa vischia perché senti un po' di gioco. Per me quello non c'era. C'era le quattro là. Quello con Moretto. Però è un suo attimo. Ma lui che sta qua. È stagina. L'uomo. È stagina. Non so io che ho acceso però, eh? Dai! 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 Dai un po' no! Dai! 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 Fai un po' no! Dai! Ma vuoi l'accendire? Ah! Dai, Dani, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. E' preso! Dai, dai, dai. Vabbè, non c'è un mangiato. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti